Sono Francesco Perillo, Presidente della Cantina di Venosa, benvenuti nella nostra vendemmia 2016. La nostra realtà nasce nel 1957 e attualmente raggruppa 350 soci conferitori. Rappresenta la più grande realtà vitivinicola della Basilicata. Nel 2000 nasce in noi la consapevolezza di avere un grande prodotto tra le mani, l'aglianico del vettore. Facciamo nostro il motto che la qualità è per tutti, ma l'alta qualità è solo per i nostri viticoltori. Ed è proprio grazie a questa filosofia che siamo riusciti a farci apprezzare. Nel panorama enogastronomico internazionale. Sono Francesco Perillo e amo la mia terra.